dal libro dell'apocalisse nel cielo apparve poi un segno grandioso una donna vestita di sole con la luna sotto i piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle era incinta allora apparve un altro segno nel cielo un enorme drago rosso con sette teste il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorarne il bambino non appena fosse nato essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni col scettro di ferro e il figlio fu subito rapito verso dio e verso il suo trollo grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.